HAKUNA AMATATA A giocare con i settaggi in giapponese Ma Dragon Ball Non mi piacciono le voci Non ci posso fare niente Non mi piacciono Sono troppo femminili Troppo 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 femminili Speriamo che non si blocchi più Sto cacchio del gioco Ok Majin Buu Ta da Majin Buu è qui Che culo oserei dire Però Ah ma questo qua era il pezzo quello la Dove poi entrano nella dimensione Lasciano Majin Buu Però urratamente tanto forte Dovrebbe essere quello Che poi Mamma mia Mamma mia Aio Ma sei scemo No 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 ragazzi ragazzi Menate 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 Uuu Buu Buu Lo so è da un po' che non giochiamo a Dragon Ball Però c'avevo altri video da fare L'avete visto? Non mi dico che fate la fusione Oddio Fanno la fusione Maronna mia E' quella perfetta? E' quella perfetta? E' quella perfetta? Bellissima Anche io la fusione Mamma mia Eh senza Parisi Mamma L'ho preso Destriscio ma l'ho preso Mamma mia Quanti Aia Eh ragazzi Mi dovreste dare una manina Adesso non è cattiveria eh Cioè Siete i guerrieri più forti Che Che ci stanno al momento Oh Mamma mia ragazzi Calcolate che mi sono anche aumentato un pochino il vigore Tutte queste cose qua Dovremmo fare tanto male Che fa? Lo sapevo io che non me ci doveva avvicinare Ho detto che sta a fare Sì è sta Oddio Sì Sera Sera L'hai fatto L'avete visto? Perché comunque Machin Buu Si ripete Si ripa sempre no? Tipo se fosse una menciano Ma forse ancora Oh Mamma mia Quante botte Quante botte Ma quanto sono forti quei due No Sono troppo forti Dai dai Ok Non me l'ha fatto uccidere completamente Quindi non è ancora finito qua E ne so abbastanza sicuro Madonna ragazzi Che spettacolo Vabbè Vi Vi Bigato mai Andiamo avanti va Mamma mia ragazzi Tra l'altro Lo so Che si può comprare Il Super Saiyan Ma vorrei farvi una live Magari questa domenica Ve lo dico già da adesso Preparate I vostri culi A mettervi seduti davanti Al computer Verso le 5 di pomeriggio Su Twitch Perché faremo una live Di Dragon Ball Poi vi faccio sapere meglio Non vi preoccupate Ok Non ho capito Perché mi ha portato qui Ce ne Ah Sì Quando esaurisce la fusione Come no Come no Sì sì Mamma mia Ti devo dare un sacco Di botte Ma meno male Aia Ma non è giusto Che mi sparico il culo No Faffanculo Se sono riuscito Ma non ce sono riuscito Vabbè Meno male che ce sono riuscito Ma Meno male Fine settimana Bastardo Beccate sta Bomba Scappa Me paro Me paro Me paro Me ne frega niente Me frullissica Aia Aia Mi ha menato sul pipino Mi ha menato sul pipino Astro Eh vabbè però Che sfiga che c'ho Ammazza Quando uno c'ha sfiga C'ha sfiga Avvenisci Deve andare a vuoto Che sembri stupido Oh Mamma mia Oh E uno deve Come cazzo Ah Mamma mia Toglie pure questa Altro che Vai vai Prendita col piccolo Bravo bravo Uh 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 Aia Come cazzo hai fatto Come Come diamine hai fatto Però se me lo porti via Piccolo Adesso io non te voglio Di che hai sbagliato Però Somma Tanto bene non hai fatto No Aia 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 Non c'ho Devo aumentarmi Il vigore mi sembra Qualcosa del genere Guarda sto stronzo Benvenuto Madafaga Bentornato Vieni qua Dai Dai Su Senza problemi Senza problemi Dai Ah Aia Ah L'hai presa allora Eh Però non mi si ricarica Non mi si ricarica Aiuto Amici Kamegato Aia L'ho stuzzicato Neanche Dai Aia Meglio che Meglio che me curo Aspettate Vai prendi quella Meglia E chi se ne frega Mamma mia Mia Oh Non te l'aspettavi Questa eh Non te la Non Ok Non me lo fa mai uccidere Fino a fondo Bellissimo Bellissimo Ma Ma fammi combattere Con tutti No Con Gon Gon è bellissimo Gon è uno dei personaggi Che Oh Che preferisco Sinceramente E invece Sto dietro Pro Gon Era un pochino Più Utile Piccolo Io te lo dico Aia Aia Devo stare attento Oh bravo così Bravo così Che non ci stai capendo Proprio niente Oh Madonna mia Che bomba Gli ha tirato Quella al padre Questa me la ricordo Mi sembra che Oh Oh Te si è tolta Eh no Mi sa Glielo stanno a mente Non vorrei che Mo cerca di distruggere La terra Che dovrebbe essere Col cazzo Ma è diventata Forma perfetta Ok Kid boot Piccolo boot Oddio Mo ci mette paura Bubu Che grande battuta Oh Certo che C'ho sfiga però Ammazza Se c'ho sfiga Guarda se c'è moro eh Guarda Guarda se c'è moro eh Becca becca Ok Ce sono riuscito Bello bello Regà Quanto devi fare male Però Eh dobbiamo resistere Io già mi immagino Cioè lo vedi Che non mi fa muovere Gon mi devi dare Oh Oh Che combo Guarda La so fa pure La kamekatsu Ecco Sto kamekatsu Dai Ok Menalo Menalo Oh Non l'ho preso Non l'ho preso mai Ah Ci piace Oh Fanculo mamma Dai così Faccia proprio Mamma mia Ma qual resiste Questo lo spacco Raga Questo lo spacco Lo spacchiamo Oh Mamma mia Mamma mia Le bombe Quante botte No no Vai Vai Prendilo Vaffanculo A lui Oh Ragazzi Stiamo procedendo Come dei missili Stiamo procedendo Come dei missili Mamma mia Dai io direi che un'altra Ce la possiamo fare Un'altra ce la possiamo fare Avanti E non mi dite che vi voglio bene Perché potevo anche Terminare qua Con dieci minuti di video Puliti 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 Però vi voglio troppo bene E poi che non si vedevamo Stacazzina Lasciamo perdere ma Aia No 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 Porca merda La chi ci pensa No non ho capito Ma che cazzo di soddisfazione c'è Distruggiare la terra Mongoloide Ma ma che te governi No Ma che state a dire Quello è il momento In cui sono tutti Teletrasportati sul pianeta Del supremo Non mi ricordo bene Però mi sembra del supremo Conquista il futuro Grande battaglia Mamma mia E facciamocela va Porca puttana Però tutti i super saiyan Io no Aia Sta cosa non mi piace Sta cosa non mi piace Non mi piace proprio Ve lo dico Anzi dopo Ho un'idea E dopo ve la propongo Dopo ve la propongo Mamma mia Sì E sono rimane 500 Kamehameha addosso Dai lottiamo pure un po' Nell'acqua Vapaculo Mamma ta Mi sa che ho sbagliato direzione No no Mi sa che l'ho preso No no Mi sa che ho proprio Sparato a cazzo mio Cioè Peccacchi miei Praticamente Madonna ma quanta energia c'ho Stai fermo Maledetto Che non sei Vabbè ragazzi Con due Con questi due Super saiyan Ma non è che Kaio Ken Io questo posso Ma non rompo il cacchio Io questo posso fa Ognuno c'è il suo Mamma mia Ma quanto picchio io Altro che Maronna mia Vieni qua Non c'ho più niente Ho finito tutto Ahia Ho finito il caio Ken Il cazzo Ken Ho finito tutto Ma vaffangula Mamma ta Sore Tanziata Ma quante picchi Le to Mamma mia Regalo È proprio Un'altra volta Ah sì 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 Me la ricordo Me la Me la ricordo Me la ricordo assolutamente Vedete che ti è successo Già te sei Già te sei scaricato Vedete E dai così Prendiamolo in faccia Sto bastardo Ragazzi Alzate tutti le mani Che Goku deve fare La sfera Genji Dama Aia Aia Ammazza però Non te mena Ma quando te mena Questo Dai 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 Così Kaio Ken Col cazzo più duro Adesso Aio Col cazzo Più duro Dai Oh Mamma mia Questa Toglie nessuno Oh Vegeta però Mi devi dare una mano Io te lo dico Perché non stai facendo Praticamente niente Vegeta Bravo Vegeta Prendici Prendici i schiaffi Madonna L'ho appiccicato al muro Mamma mia Oh Liscio Chissà dove è andata qua Come come Dai Dai Aio Oh Sei proprio Stronzo Forte Ma che vuole Mister Satan Dai Così Dai Che manca Madonna ragazzi Ma quanto Sono forte Quanto Quanto Sono forte Quanto siamo Forti Mamma mia Lo massacro Lo massacro Altro che Mamma mia Ragazzi Le botte Le botte Signori Eccola Mamma mia Qua Solo mi piace Per sta scena Ragazzi Mamma mia Vai Goku Porco Dove ce la sta rispingere Ma che bastardo Mamma mia C'ho i brividi C'ho i brividi Bellissima Sta scena Bella 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 È certo Bellissimo Mamma C'ho i brividi Vi giuro i brividi Sulla schiena Ragazzi Oh Pai Bello 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 Eh E io non ci sto più, mi sembra anche giusto Che bello Ma Dragon Ball secondo me rimarrà per forza Nei nostri cuori per sempre Non è possibile Però non è finita Però non è finita Perché praticamente lui si sta tipo caricando Qualcosa del genere Sto bastardo di merda che gli spacco la faccia Signori che dire L'appuntamento di oggi può finire qua Ve lo dico Io penso che non giocheremo a Dragon Ball Finché non Finché non sbloccheremo il Super Saiyan Ci proveremo un live Ci proveremo un live Alle brutte E dico alle brutte ce lo compreremo Però Non lo so d'accordo Quindi preparatevi che per 2-3 giorni Non ci sarà Dragon Ball forse Non lo so Ci vediamo live Domenica Adesso vi lancio l'appuntamento Domenica Alle 17 Su Twitch Vi lascio il link in descrizione del canale di Twitch O lo cercate su Twitch CiccioChemano89 Se vi è piaciuto pollicione in su Commentate e condividete Al prossimo appuntamento Col vostro Twitch CiccioChemano89 Perché adesso è il momento Di diventare Super Saiyan Grazie a tutti Grazie a tutti